Tutto parte dal punto nascite di Iseo chiuso per l'emergenza covid e mai più riabberto ma una speranza ora potrebbe arrivare anche per i punti nascite di Casal Maggiore Asola a spiegare perché è Marco degli Angeli consigliere regionale del Movimento 5 Stelle firmatario proprio in regione di una mozione per la riapertura del punto nascite di Iseo. Infatti la mozione presentata e votata poi da tutto il consiglio regionale si è arricchita di un impegno ovvero quello che impegna la Giunta ad attivarsi subito per verificare le condizioni e valutare possibili azioni per definire un piano di riapertura dei punti nascita che in questi anni sono stati chiusi o temporaneamente sospesi. Quindi si può ragionare di desuderoghe in base a situazioni geografiche e territoriali come previsto dal decreto ministeriale 70. Un primo passo precisa degli Angeli per tenere alto l'impegno che si sposa anche ad un'altra battaglia. In fase anche di revisione di legge 23 lotteremo affinché ci sia finalmente un riconoscimento di quella che è la SST del Casalasco via Danese che potrebbe aprire diciamo degli scenari migliori per il nostro territorio.